La procura di Perugia ha chiesto il giudizio immediato per un 25enne di Norcia accusato di aver stuprato sul prato di una piscina nel quartiere di San Giovanni una 21enne di Fabriano. La violenza sessuale risale al 19 luglio dello scorso anno. La giovane era andata in Umbria con un'amica più grande in treno per partecipare ad una sagra paesana a Ponte Pattoli, una frazione perugina. In stazione le due ragazze avevano ricevuto un passaggio in auto da un amico. Alla festa avevano conosciuto un gruppo di ragazzi che si sarebbero offerti di riportarle in stazione. Prima hanno fatto tappa in una struttura comunale chiusa con tanto di piscina. Erano almeno in quattro con le due ragazze che sono state molestate. La 21enne avrebbe subito la violenza contro la sua volontà. Era sotto l'effetto dell'alcol quando ripreso conoscenza. Aveva presentato denuncia alla polizia. L'accusato, che ha sempre rigettato le accuse parlando di un rapporto consenziente, era stato identificato dal DNA comparato con gli esami sulla ragazza. Il processo inizierà il 5 luglio prossimo davanti al collegio del Tribunale di Perugia. È difeso dagli avvocati Vincenzo Bocchicchio e Andrea Ulivucci. Il PM Giuseppe Petrazzini contesta la violenza sessuale continuata e la violenza sessuale di gruppo aggravata in concorso con altri, tutti minorenni. Per loro c'è un'indagine ancora aperta. La vittima è rappresentata dall'avvocato Ruggero Benvenuto. Contestato all'imputato nello stesso procedimento, anche le lesioni aggravate in concorso con il fratello per un'aggressione a un nordafricano avvenuta il 10 giugno 2023, a cui avrebbe spaccato una sedia di metallo in testa e poi spruzzato una sostanza urticante. Il 25enne è attualmente agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico.